Sono passati i 2773 anni dalla fondazione di Roma, Roma ha visto e conosciuto di tutto, ha superato tutto ciò che di bello e meno bello il tempo le ha riservato, ma Roma non si è mai persa d'animo. Anche in questo momento tormentato del 2020 in cui il silenzio è calato su una città abituata al frastuono, alle mille voci dei visitatori che quotidianamente visitano la città, i mille sorrisi che ogni giorno animano questo luogo, però Roma rinasce e ci lascia la sua testimonianza di grandezza e di splendore. Il Parco archeologico del Colosseo è proprio il custode delle sue origini e ha il compito e la missione di trasmettere la storia di Roma. In questo Natale così silenzioso abbiamo scelto di dare voce direttamente ai monumenti, di raccontare come ci prendiamo cura di loro. I nostri canali social offriranno a tutti voi il racconto dei restauri e della manutenzione che garantiscono la tutela e la trasmissione della storia. Foto, video con spettacolari riprese da drone ci accompagneranno e vi accompagneranno a scoprire la colonna traiana, l'arco di Settino Severo e vi faranno camminare sui preziosi mosaici e sui marmi del Palatino. Vi faranno scoprire le tecniche di anastilosi degli anni 30 al Tempio di Vesta. Tutto questo tornerà nuovamente ad essere realtà appena l'emergenza sarà finalmente superata. I cantieri riapriranno e la storia tornerà a scorrere. Siate numerosi in questa festa di Roma. Grazie a tutti.